Ieri, quando eravamo fuori dal bar, hai detto la parola Cavolfiore. È vero, l'ho detta. Ti ricordi che l'ultima volta che mi hai detto quella parola sono finito in prigione per sei mesi? Era un riformatorio. Avevo tredici anni. E tu avresti dovuto farci da palo? Nonostante fossi tuo fratello minore, non hai esitato a mettermi nei casini con i tuoi folli, pazzi, piani, cavolfiore. La mia carriera criminale è finita. Però stamattina mi hai preparato la colazione. Hai bruciacchiato la pancetta come piace a me e non a te. Ho anche visto che hai scritto una lista di cose da fare per una rapina. So che questo tentativo di organizzazione è un grande passo per te, quindi spara. Charlotte Motor Speedway. Grazie. Grazie. Cel'an, gli stavoli. Grazie a tutti